SICAM, Salone Internazionale di Componenti, Accessori e Semilavorati per l'Industria del Mobile, si terrà dal 17 al 20 ottobre a Pordenone, cuore dell'Industria del Mobile. Per accogliere le migliaia di visitatori che saranno presenti in fiera, la nostra città ha organizzato Enjoy Pordenone with SICAM, una serie di eventi collaterali diffusi all'interno dell'antico centro storico. Esibizioni, performance, mostre e incontri che si terranno in ogni angolo del centro. E poi, per gli amanti della cultura, anche i musei saranno visitabili con aperture straordinarie. Insomma, un ricco calendario di eventi culturali e no gastronomici, tanta musica lungo i corsi, negozi aperti fino a tardi per una formula che vuole promuovere il nostro territorio, coinvolgendo anche i turisti, i cittadini e le famiglie. SICAM è la fiera più importante che aspettiamo a Pordenone, una fiera internazionale, la seconda più importante al mondo, che richiama decine di migliaia di persone, tra visitatori e espositori che arrivano da tutto il mondo. Tra l'altro, per onorare il nostro distretto del Mobile, un grande distretto del Mobile ha bisogno di una grande fiera. Qui arrivano tutti, subfornitori, fornitori, tutta la fiera del Mobile, dal semilavorato agli accessori, si ritrova nella nostra città. Decine di migliaia di persone significano anche un'importante ricaduta economica per gli alberghi, per l'estallazione, per la nostra piastra commerciale. E per tenerci stretta questa manifestazione abbiamo organizzato un fuori salone, eventi culturali e no gastronomici, iniziative musicali, negozi aperti, insomma un po' di tutto, per dare il benvenuto a queste migliaia di persone, ma dall'altro lato per offrire una occasione in più di svago anche ai pordenonesi. Sicuramente la fiera ha trovato il suo abito naturale a Pordenone, essendo Pordenone nel centro del distretto di Livenza, dove si producono la maggioranza dei mobili in Italia. Quest'anno abbiamo anche la fortuna da parte del Comune di Pordenone che ha lanciato tante iniziative per rendere Sicamo ancora più presente sul territorio e di questo ne siamo molto riconoscenti. È l'anno zero, partiamo insieme e vediamo se il fuori salone programmato dal Comune di Pordenone abbia risultati che tutti noi ci aspettiamo. Grandissima oggi la presentazione di Enjoy, dopo molti anni che il sindaco ha indicato qual è la via per unire la fiera alla città, ecco che la città risponde e da oggi edizione zero di Enjoy sarà pronta ad accogliere tutti i visitatori e gli espositori naturalmente per oggi di Sicam e per il futuro di tutte le nostre manifestazioni come Pordenone Fiere. Per informazioni sugli eventi in programma, comune.pordenone.it.